buongiorno 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 e benvenuti benvenuti buon sabato 25 aprile in diretta da fotografia professionale ciao ciao ragazzi ciao a tutti buongiorno pieno buongiorno michele buongiorno antonio buongiorno tommaso il vincitore del nostro contest di questa settimana buongiorno zaira buongiorno a tutti ciao marco ciao gianluca ciao giuliano eccoci qua benvenuti 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 di nuovo in diretta da fotografia professionale oggi di nuovo parliamo di photoshop anche oggi anche oggi anche questo sabato si lavora e si parla di poste si lavora e si parla di poste bene vediamo se riusciamo anche oggi a fare un buon numero nonostante la giornata di festa allora allora come va come va qua c'è un gran caldo un gran sole allora il profilo antonio se tu guardi nel video corso lì dice nel corso di lightroom il profilo non c'è se guardi c'è una lezione apposta nuova sulle novità che ti spiega dove il profilo nuovo che è in alto nell'ultima versione di lightroom è in alto c'è assolutamente ok una domanda al volo dal freddo che fa domande di marketing di solito una domanda a metà strada fa il fotoritocchio e il marketing che credo anche questa strada possa interessare ad altri quale potrebbe essere una tariffo oraria equa per un fotoritocchio di media complessità allora di prezzi abbiamo parlato anche durante una diretta magari ne parliamo anche domani perché il prezzo può essere una delle cose importanti per l'argomento di domani non c'è secondo me una tariffa oraria equa c'è una tariffa diciamo a lavoro che può essere equa diciamo che tendenzialmente il mio lavoro per un fotoritocchio medio normale diciamo è intorno ai 60 euro l'ora può anche costare decisamente di più dipende dalla tipologia di lavoro di fotoritocchio di urgenza eccetera eccetera però dipende tanto anche da quelle che sono le condizioni cioè se sono 500 foto fare pagare 60 euro l'ora può essere impegnativo dipende io di solito calcolo i miei costi col prezzo orario e non do mai al cliente un prezzo orario mai in assoluto ma gli do un prezzo a scatto sapendo il tempo che ci metto buongiorno buongiorno ragazzi ciao a tutti ciao a tutti buongiorno a tutti pavoni oggi no oggi no oggi no meno sole si vedono le veneziane probabilmente ha girato un attimo c'è una nuvola però ci sono tutti i giorni allora 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 in questi giorni sono in ostaggio di un libro che mi sta tenendo sveglio fino a tardanotte ma tutto bene tutto bene allora oggi parliamo di post come sempre facciamo la post intera e conclusa se possibile di un'immagine è un'immagine abbastanza particolare perché è una foto scattata da Simone Conti in mezzo ai boschi sotto la pioggia è una roba abbastanza impegnativa andiamo a vedere lo sviluppo e poi dopo vediamo come trattare un'immagine di questo tipo che ha una tipologia di post decisamente più forte e decisamente più spinta rispetto ad altre molto spesso anche durante i contest sul gruppo quello che facciamo è criticare abbastanza il fatto che l'immagine sia troppo spinta perché nella fotografia commerciale è necessario mantenere un mood che segua quello che è quello dell'immagine nel caso specifico per esempio le foto di food che sono state oggetto del contest di questa settimana devono essere foto abbastanza soft non possiamo usare un taglio troppo duro nelle immagini mentre nel caso di una fotografia di questo tipo che è un'immagine di motocross in mezzo ai boschi possiamo dare un taglio decisamente più forte e magari anche spingere un pochino di più sul gas nella tua schermata di photoshop sulla destra in alto c'è una barra degli strumenti molto riepilogativa allora nella mia schermata di photoshop adesso ci andiamo c'è la barra dei pannelli in alto a destra e in alto a sinistra la barra degli strumenti la barra dei pannelli non fai altro che creartela tu lavorando sull'interfaccia se è quello di cui stiamo parlando adesso te lo spiego fatti gli esercizi sulla tavoletta grafica fantastico, ottimo cosa ne pensi dei preset utili? sarebbe meglio che te li facessi da solo una volta che hai imparato a utilizzarli sarebbe meglio che te li facessi da solo perché così sono tuoi e non sono i preset comparti da qualcuno che ti danno un risultato che lui ha previsto per le sue foto allora, incominciamo a lavorare dai perché ne abbiamo abbastanza oggi così facciamo lo sviluppo poi Stelio quando siamo su photoshop guardiamo anche velocemente la banda la barra dei pannelli ok? buongiorno a tutti allora, andiamo facciamo il passaggio ok andiamo in transizione e andiamo su Lightroom allora, ho selezionato alcune foto in realtà ne andiamo a lavorare una sono foto che hanno tutte bene o male le stesse caratteristiche ci sono foto scattate a degli orari infami con una luce piuttosto scarsa perché Simo si è portato dietro i flash ma comunque c'era nebbia c'era buio e gli scatti per forza di cose devono essere fatti a una certa velocità per riuscire a ottenere dei risultati quindi ci sono alcuni scatti fatti con i flash quello su cui andiamo a lavorare è questo che è uno scatto abbastanza particolare ragazzi rispondete a Loris come mai quando sposto dalla barra a destra i livelli l'opacità non sempre funziona o meglio rimane attiva non ho capito la domanda quando sposto dalla barra a destra i livelli l'opacità non sempre funziona se non hai selezionato un livello l'opacità non è attiva questo è sicuro cerca di spiegarmela Fabrizio nel miglior modo che ti riesce allora lavoriamo su questa immagine ce ne sono diverse di foto che potrebbero essere lavorate interessanti lavoriamo su questa perché è quella diciamo che abbiamo messo nell'immagine della lezione è quella un pochino anche più particolare se riusciamo a gestirla bene la prima cosa che faccio in assoluto è una leggera inclinazione dell'immagine e anche un leggero taglio per tenere proprio la testa di lui sui terzi e eventualmente tagliare anche un po' il bosco di qua che ci interessa fino a un certo punto dopodiché devo andare a lavorare per illuminare un pochino tutta l'immagine stando molto attento a non bruciare la luce di qua che lo è già e che invece andrà recuperata è un'immagine comunque scattata all'alba quindi andare a accentuare troppo la luminosità non ha obiettivamente senso fra l'altro è un'immagine che per forza di cose un po' perché il sensore è abbastanza adattato un po' per le condizioni è un'immagine abbastanza sgranata non è un'immagine perfetta quindi dovrò andare a lavorare su certe cose piuttosto che su altre Marco cos'hai oggi? si è agitato? tranquillizzati stai scrivendo di continuo cosa succede? ok allora via andiamo a lavorare sull'esposizione non voglio alzare l'esposizione pari pari perché ripeto se no brucia da quella parte lì quindi non voglio esagerare assolutamente questa cosa quindi l'esposizione la alzo appena appena vado ad alzare le ombre sicuramente perché mi permettono di vedere un pochino di più certe cose e poi dopo vado a gestire alcuni fattori in questo caso la chiarezza che mi permette di avere un'illuminazione più interessante cioè mi va a togliere un pochino di foschia è chiaro che la foschia è importante in questa immagine perché va a separare i piani parlavamo di separazione dei piani in questi giorni ecco il fatto di avere questo muro di foschia qui dietro l'albero qua davanti che fa la quinta mi aiuta molto a separare i piani se io non avessi nulla la foto sarebbe tendenzialmente molto più piatta come per esempio lo è questa nella quale i piani sono poco separati io qua dovrei recuperare tanto lui e cercare di mantenere dietro la parte diciamo più nebbiosa per separare i piani qua invece lui si staglia piuttosto bene perché dietro a distanza c'è un muro di foschia ok? ok mi fa piacere usi sempre Lightroom non Camera Raw sono la stessa cosa Camera Raw ha un'interfaccia grafica che per me è più difficoltosa e quindi uso Lightroom ma il motore di sviluppo è identico ok? dovendo scegliere preferisco lavorare su Lightroom perché ha un'interfaccia che mi permette di lavorare meglio almeno dal mio punto di vista allora qui devo lavorare sui colori chiari per andare a schiarire le parti più chiari delle immagini poi eventualmente farò delle regolazioni locali i colori scuri li schiarisco appena appena senza esagerare ok? dopodiché vado a lavorare su due cose in particolare uno in realtà lo potrò fare anche subito vado a abbassare la temperatura perché voglio un'immagine più fredda e voglio fra l'altro delle tendenze più verdastre quindi vado a abbassare la temperatura e vado a abbassare la tinta in modo da avere un'immagine tendenzialmente più verde andiamo a vedere com'era in originale ok torniamo qua posso abbassare ancora leggermente la temperatura e posso andare ad abbassare ancora leggermente la tinta ma poi lo farò in maniera più evidente dopo bene non esagero perché poi non voglio perdere gli arancioni dell'immagine a questo punto mi sposto ancora più giù non posso andare a esasperare le luci perché altrimenti qua succede un casino ma posso incominciare già a fare delle cose allora in tonalità non ho bisogno di fare grandi cose vado a sicuramente aumentare la luminanza degli arancioni e dei rossi per tirar fuori lui perché l'obiettivo è quello di far venire fuori il soggetto cioè lui molto di più di quanto non sia fuori questa luce ok altrimenti gli occhi vanno immediatamente lì o comunque un po' di più di pareggiarlo un pochino quindi aumento un pochino la luminanza aumento un po' la saturazione degli arancioni non esagerate non fate delle robe super sparate ma qua possiamo spingere decisamente un po' di più ok vado a vedere in tonalità eventualmente se renderlo un pelo più giallo non troppo sicuramente vado a rendere più gialli i rossi in modo da uniformarli un po' questa è una scelta in realtà non è scontato perché i rossi sono anche parte delle ombre dell'immagine quindi della tuta se io vado a uniformarli tanto si appiattisce molto quindi no mi fermo e lo lascio invece abbastanza così vado a rendere leggermente più gialli gli arancio quindi li differenzio per assurdo ok altre grandi cose non ce ne sono posso eventualmente andare sui verdi un po' più verso il giallo per dare un'idea un pelo più autunnale e posso andare sugli acqua marina un pochino più verso il verde guardate il cielo dietro perché io vorrei tendere a il verde piuttosto che all'azzurro vero e proprio ok posso anche fare delle regolazioni locali incominciare a fare delle regolazioni locali una per esempio è utile può essere una radiale qui nella quale vado ad aumentare ancora un po' di più la chiarezza per far uscire lui a schiarire appena un po' di più le ombre in realtà posso far uscire azzerriamo esposizione la prima volta nella mia vita tocco il contrasto leggermente però me la indurisce molto quindi facciamo così proviamo a alzare un po' le luci ok bene la chiarezza va bene rimozione foschia in questo caso no perché fa solo del danno e direi che sono abbastanza a posto quello che ho fatto rispetto all'immagine originale è questo ok quindi sono andato da qua a qua bene senza fare cose mostruose clamorose e esagerate però schiarito un po' provo a vedere la gestione dei colori chiari non voglio esagerare in realtà quello che mi interessa forse è leggermente appena di più recuperare le ombre e posso chiudere appena i neri ma i neri me li chiudo in photoshop ok allora sono abbastanza pronto in realtà per il mio sviluppo vediamo se ci sono domande ce la rifai vedere da vicino voglio ora capire qual era la quantità di rumore immagino che ce ne sia un po' sì in capture se vuoi usare ci sono anche le maschere certo ci sono anche in lightroom per creare dei piani a parte sfocare usare la foschia quale altra tecnica si può utilizzare allora diciamo che creare dei piani è una cosa piuttosto difficile perché presuppone uno scontorno sicuramente quando ce li ho cerco di valorizzarli quindi andrò a fare in modo di rendere questa zona leggermente più chiara e leggermente più bianca vado a fare un'altra regolazione locale prima di sviluppare che è questa nella quale fondamentalmente vado a togliere della saturazione per togliere in realtà la saturazione principalmente ai blu perché questi blu mi fanno abbastanza schifo quindi li voglio abbastanza soft ok qui se abbasso la chiarezza diventa più luminosa se abbasso leggermente il contrasto meglio ok basta fatto quello che dovevo fare da vicino l'immagine ha questa caratteristica è comunque sgranata fra l'altro è una messa a fuoco piuttosto complessa che è andata sulla moto più che su di lui quindi avrò bisogno di tirare su un pochino di dettaglio ok vediamo ok andiamo avanti sviluppo quindi sono già pronto a sviluppare in realtà tendenzialmente cerco di fare lo sviluppo il più rapido e indolore possibile questa è action ok scelgo la cartella che andiamo a creare sulla scrivania ok perfetto metti sotto cartella no lzv ok via ed eccoci qua in photoshop allora sono in photoshop a questo punto prima cosa da fare su un'immagine del genere è andare a spingere un pochino il dettaglio perché ho bisogno di un dettaglio abbastanza deciso in questo caso specifico andrò a fare un oggetto avanzato quindi converto in oggetto avanzato e vado a fare la doppia nitidezza in lab in una situazione del genere sono sempre in dubbio più aumenta la luce del soggetto più risalta il fatto che è stato usato un flash e più innaturale è il risultato meno schiarisci e più è perso nelle tenebre allora il fatto che in questo caso sia stato usato un flash è evidente che sia naturale ci interessa relativamente è un'immagine diciamo a scopo potrebbe essere a scopo pubblicitario mi interessa il giusto che sia iper realistica l'illuminazione vale un po' il discorso nel momento nel quale devo trasferire un messaggio il fatto che sia stato usato un flash per me è normale ok la parte sotto della moto per i miei guise è molto chiusa sì sì ma infatti la andremo a aprire un po' esiste in Photoshop un metodo rapido per fare un filtro radiale tipo quello di Lightroom certo una maschera radiale con un livello di regolazione perché vi ci tocco il contrasto per la prima volta nella mia vita perché di solito preferisco alzare le luci e chiudere le ombre non amo il contrasto che infatti poi ho tolto perché fa regolazioni a sua sponte di sua iniziativa su luci e ombre aprendo le luci e chiudendo le ombre non mi piace proprio il contrasto in generale come strumento perché preferisco piuttosto aprire le luci e chiudere le ombre di quanto voglio io piuttosto che andare a mettere andare a fare questo lavoro perché non scegliere modifiche in Photoshop perché in un flusso organizzato io devo uscire da Photoshop esportando e uscire da Lightroom esportando le immagini in una cartella essere sicuro che sono archiviate lì e che lì ci sono i miei file di lavorazione quindi esporta in Photoshop modifichi in Photoshop è un flusso che va bene se lavori un'immagine sola in questo caso è vero che ne sto lavorando una ma tendenzialmente come flusso di lavoro che puoi trovare fra l'altro nelle precedenti lezioni io ho sempre bisogno la necessità di tenere tutto ordinato quindi esco da Lightroom salvando le immagini in una cartella e poi aprendo in Photoshop Lightroom lo chiudo a me Lightroom non serve più ho finito il lavoro in Lightroom se ho esportato tutte le foto del catalogo che mi servono non riaprirò semplicemente più quel catalogo a meno che non ci siano casi estremi e da quel momento in poi lavoro in Photoshop perché esporti in TIF e non in PSD in questo caso per una perché non devo avere non devo riconoscere immagini TIF e PSD perché in questo caso la butterò via probabilmente dopo la lezione tendenzialmente esporti in PSD per ricordarmi la differenza fra i PSD che sono quelli a livelli e i TIF che sono quelli invece chiusi e salvati per l'esportazione per la stampa non c'è nessuna differenza tecnica fra TIF e PSD Maddalena grazie si riferisce sulla Lightroom cosa? no in generale il contrasto no no non sulla Lightroom in generale il contrasto neanche luminosità e contrasto in Photoshop lo uso magari uso valori tonali perché mi permette di gestirli separatamente cerco di stare più vicino al microfono il double focus è indicato per tutti i tipi di soggetto oppure c'è qualcosa in cui non va assolutamente bene beh sui ritratti tendo a usarlo il meno possibile in realtà in questo momento uso tanto la nitidezza di Captur in questo caso un po' di durezza mi serve consigli per come esportare con quali impostazioni vada a vedere la lezione su Lightroom ma tendenzialmente esporto sempre in Adobe RGB 8 bit compresso LZV no è un crossista Fulvio Maiani fa Downhill quindi non è un autoritratto è una foto è una foto di Simone Conti fatta degli amici crossisti mezza i boschi qualche anno fa 2015 credo forse anche più vecchi ok allora ci sono vado a fare il mio double focus per tirar fuori la nitidezza prima di tutto converto converto in profilo Color Lab vado a richiamare il canale della luminosità solo lui ok posso anche lavorare solo su di lui vado a invertire filtro nitidezza maschera di contrasto 500 1 e 2 e poi filtro maschera di contrasto 55 questa volta sto un po' più stretto sto a 15 invece che a 25 perché ho bisogno di tirar fuori il dettaglio di lui tolgo la selezione siamo a posto è durissimo sicuramente ma lo andrò ad abbassare e comunque in ogni caso su un'immagine del genere avere questa pasta un po' cruda a me non dispiace per niente salvo e chiudo e andiamo in di nuovo nel nostro documento normale se hai fatto un presviluppo di 50 foto in Lightroom dopo le porti tutti i 50 in Photoshop una alla volta se ce la fare un lavoro abbastanza veloce assolutamente sì se invece una roba più lunga le esporto a gruppi quindi so che riesco a ritoccare 10 foto al giorno esporto le prime 10 le correggo e vado avanti ok con la tua visione del pannello livello come fai a bloccarli in modo che quando lavori sull'immagine ad esempio con uno strumento resti aperto vorrei tenere aperto un pannello senza doverlo riaprire ogni volta ok allora io tendenzialmente ho questo ve lo faccio vedere questa è la banda dei pannelli che io tengo sempre contratti ad icona con le freccine qua in questo modo quando io lavoro sui livelli esce il pannello dei livelli e io vado a fare i lavori che devo fare quando devo andare a fare un controllo sui tracciati clicco sui tracciati e vado sui tracciati eccetera eccetera quindi per me l'unico pannello che può rimanere aperto fuori da questi da solo è info quello che mi serve per avere le informazioni sul colore per il resto ho sempre un solo pannello aperto alla volta se tu vuoi tenerti aperti i livelli da una parte prendi il pannello dei livelli te lo stacchi e te lo tieni aperto però secondo me fa solo casino e dopo un po' diventa soltanto fastidioso quindi preferisco avere tutti i pannelli contratti quando avete un pannello fuori da questi la prima cosa che fate è ridurlo a icona e la seconda cosa che fate nel tratteggiato qui in alto lo prendete lo portate nel pannello giusto io di solito tengo i gruppi in questo modo livelli tracciati canali insieme pennelli pennelli sorgente clone pennelli dinamici insieme testo tutti insieme eccetera eccetera ok spero di aver risposto questa la domanda ok sei fatto ok meglio dettagli in photoshop con i vari metodi tipo double focus oppure risultato che si ottiene in capture one meglio capture one per quanto mi riguarda assolutamente qua mi sarei molto divertito con capture one perché avrei tolto anche un po' disturbo come lavoro sull'immagine si chiude no non dovrebbe farlo cioè se vado a lavorare sull'immagine io prendo un pennello e vado a lavorare su un livello non si chiude rimane assolutamente aperto non so quale preferenza che ci possa essere prova a guardare nelle preferenze intanto metti in riquadro applicazione sempre poi prova a controllare nelle preferenze che non ci sia in interfaccio in area di lavoro un check sul fatto che i pannelli si riduce automaticamente i pannelli a icona potrebbe essere questo prova a toglierlo mostra automaticamente i pannelli nascosti si apre i documenti come schede prova a vedere se è quello ok bene torno a lavorare su di noi questo è il double focus double focus lo andiamo a controllare da vicino sicuramente è parecchio spinto quindi lo andiamo a mettere al 50% ok quello che mi interessa è vedere la foto a questa distanza e che mi dia il dettaglio che mi serve e il double focus in questo caso è la scelta probabilmente migliore per quello che serve a me ok adesso vado a fare il disturbo non si può lavare anche con l'iPhone si un pochino si però mi impasta molto l'immagine quindi in questo caso è un problema relativo in realtà se volete lo possiamo anche fare io non faccio altro che riesportare l'immagine da Lightroom dopo avergli dato una spappolata con il nostro amico vai anche il catalogo di Simone andiamo a dargli una sistemata non mi ero accorto di aver aperto un catalogo non mio allora fra l'altro ci sono delle cose particolari perché c'è una proprio sensazione di granulosità andiamo a vedere come ok luminanza a 30 direi che va benone la riesporto vediamo se me la sovrascrive secondo me si incappera ok copia la incollo come livello e vado a rifare questo lo chiamo sfondo ok ok vado a rifare semplicemente duplicandola la il double focus quindi converti in oggetto avanzato la apro modifica converti in profilo color lab non ho restrittato l'immagine ho riesportato da Lightroom di nuovo l'immagine se esporti in jpeg il rumore lo vedi eccome dipende dalle dimensioni non compare moltissimo rumore in più ci sono dei preset in photoshop come quello di Lightroom per scegliere maschere di contrasto per evitare la fare di selezione ogni volta dei preset in photoshop per scegliere maschera di contrasto no si chiamano azioni quelle si chiamano azioni in photoshop le vedremo in una delle prossime dirette non sono dei preset ma sono delle azioni ripetute e ripetibili ok poi vedremo come fare non ho convertito nell'immagine giusta modifico converti in profilo grazie ma che connessioni remote converti in profilo è già in lab è già in lab ok allora andiamo a richiamare la selezione la inverto filtro nitidezza maschera di contrasto 500 1 2 filtro nitidezza maschera di contrasto andiamo gli 20 stavolta 2 e vediamo com'è ok le seleziona salve e chiudi ok ho sempre il mio oggetto avanzato è tornata ad aumentare è tornata ad aumentare il disturbo ma lo abbassiamo un pochino lo mettiamo al 50% e può andare benone ok si poteva fare anche con un filtro camera raw giusto si però preferisco lavorare su raw perché ci sono più informazioni non puoi migliorare anche la nitidezza nel pannello di lightroom mascherando un po' già lì la nitidezza di lightroom fa schifo soprattutto su una foto del genere la nitidezza di lightroom ragazzi fa veramente schifo perché io vado a aumentare la nitidezza e lui incomincia a farmi l'autobloccante se lo vado a mascherare ancora peggio perché mi fa delle parti grattugiate solo lì quindi no la nitidezza di lightroom io personalmente a meno che proprio non sia necessario necessario non la uso mai perché è veramente terribile ok ho il mio sfondo che è copia che è double focus comunque il dettaglio ok e adesso incomincio a lavorare sui potenziali difetti dell'immagine in realtà di difetti nel vero senso della parola non ce ne sono non ci sono dei difetti veri visto che avevo già l'oggetto avanzato con il double focus ho già risposto Luca preferisco lavorare in lightroom piuttosto che in camera raw anche perché l'oggetto avanzato il double focus va comunque rifatto perché è basato sul livello con il disturbo quindi comunque andava rifatto andare a spiatellare in camera raw il disturbo si era più veloce però qualitativamente peggiore poi fatto sopra il dettaglio meglio di no allora difetti che si possono eliminare quindi attenzione qui abbiamo il mio sfondo che è intoccabile il mio double focus che è il dettaglio e vado a mettere un livello di correzione dei difetti correzione dei difetti non ho tantissimo in realtà a meno che non ci siano cose strane qua in giro io sinceramente non ne vedo una cosa che posso eliminare molto 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 velocemente sono alcuni puntini bianchi che ci sono qua che sono abbastanza fastidiosi ma proprio perché è poca roba in questo caso uso il pennello correttivo al volo perché non me ne frega niente vado solo a togliere i puntini bianchi lascio i riflessi qua intorno ma tolgo quelli qui in mezzo perché vanno a rendere il bosco più disordinato di quanto già non sia quindi tolgo proprio allora finché sono rametti è un conto ma questa roba qua mi disturba e mi fa un po' di casino poca roba non state non state a impazzire quello che sto cercando di fare è più che altro andare questa foglia gialla è fastidiosa più che altro andare a pulire la zona che poi si avvicina a lui in modo da non avere dei pixel bianchi che sono semplicemente dei riflessi che nella immagine generale vanno a dare un po' quell'effetto sporco e pieno di puntini che a me non piace quindi cerco di eliminare quelli quali lascio perché mi serviranno vado a vedere se ci sono cose da eliminare direi di no non vedo grandissimi difetti lo sporco su di lui assolutamente lo lasciamo ok a questo punto i difetti molto semplici foglia sull'albero a destra in alto troppo illuminata ramo a sinistra vicino alla moto idem allora ramo a sinistra vicino alla moto forse questo ma è piccolino però possiamo provare a toglierlo tanto si toglie veramente in fretta foglia in alto a destra sull'albero troppo illuminata non la vedo se sono queste per il momento le lascio al di poi vediamo tolgo qualche punto qua ok va bene adesso la correzione di difetti in questo caso è davvero una cosa abbastanza veloce adesso incomincio a lavorare invece con quelli che sono i toni che è la parte che mi interessa di più perché devo incominciare ad andare a lavorare per tirar fuori ancora di più lui e per andare contemporaneamente a mitigare altre zone quindi la prima cosa che faccio è un valori tonali ok questo ramo qua no non lo tolgo non ce la posso fare e quella foglia lì è troppa roba troppa roba da togliere facciamo le cose più semplici ok ora ho fatto la correzione dei difetti bene prima toni quindi vado a rendere leggermente più bianca la nebbia qui dietro se posso e a rendere invece leggermente più scura questa zona vediamo senza andare a fare delle cose eccessive lavoro sulle curve perché mi interessa lavorare principalmente sui mezzi toni lavoro sui valori tonali quando devo lavorare diciamo su su luce e ombre mentre lavoro sulle curve quando ho bisogno di lavorare sui mezzi toni ma solo per comodità mia questa curva che mi serve per lavorare qua io la vado a mascherare giusto su un albero in modo che lavori solo dietro agli alberi vedete che però da una linea troppo scura qui dietro agli alberi allora faccio due cose prima la metti in luminosità così incide meno sulla saturazione dei blu ok quindi la metto in luminosità poi non voglio che lavori sui neri quindi cosa vado a fare opzioni di fusione la tolgo dai neri in modo che lavori soltanto sulle parti chiare della dell'immagine andando a scurirle un po' ok devo stare attento a mixare molto bene questa parte per riuscire a rendere leggermente più scure le luci ok a rendere un po' meno evidente questa parte senza chiudere i neri e senza far vedere che lì ho fatto una regolazione ok mi seguite in questo modo quindi fra una maschera e le opzioni di fusione riesco a fare tutto vado avanti altra cosa qua andrò a togliere il blu ma dopo e poi non è scontato vado a schiarire invece la zona dietro di lui per schiarire la zona dietro di lui con lo stesso concetto quindi curva vado a schiarire la parte chiara vado a mascherare la parte di là ok e anche qui vado a togliere tutto quello che è nero in modo da farlo lavorare soltanto sulle luci e altra cosa che farò sarà abbassarlo di opacità ok questo mi serve per staccare di più lui quindi lui poi lo andrò a mascherare rispetto a quello che ho fatto dietro ok con due livelli io ho chiuso da una parte e aperto dall'altra e sto rendendo molto più luminoso più luminosa la parte di lui qua magari facciamo una sfumatura in modo che entri in maniera più dedicata e qua teniamo una sorta di vignettatura in modo che la parte luminosa sia quella lì sto ho invertito le aree luminose dell'immagine non era meglio una maschera su un canale luminoso che vuol dire Marco cos'è una maschera su un canale luminoso c'è una diretta solo sulle opzioni di fusione sulle opzioni di fusione sulle fusioni sicuramente l'abbiamo rifatta l'opzione di fusione più di una volta l'ultimo passaggio di cosa stiamo parlando grazie ragazzi scrivetemi di cosa state parlando perché se no leggo le domande non capisco il ramo davanti a lui lo lasci questo questo qua si è assolutamente anzi le sovrapposizioni sono fondamentali sono importantissime le sovrapposizioni perché danno profondità ok come hai creato la zona bianca nella maschera con una sfumatura con una sfumatura semplicemente semplicemente vado a fare diverse sfumature ho una maschera completamente bianca prendo una sfumatura prendo sempre la sfumatura da nero a trasparente faremo una lezione sulle sfumature e vado a mascherare questa parte di qua poi vado a fare un po' di vignetatura uno due tre in modo che la mia maschera sia così e volendo chiudiamo anche da questa parte ok poi quello che è rimasto troppo bruciato sulle luci è lui ok che è troppo bruciato perché altrimenti quella bruciatura mi va un po' a uccidere il contrasto fra lui e il resto e la presenza della tuta quindi io qui posso fare questo e raggruppo e vado a fare molto velocemente una maschera su di lui nel gruppo in modo che il lavoro che ho fatto non lavori su di lui non lavori sulla tuta e non lavori sul soggetto ok faccio una maschera abbastanza rapida con la tavoletta è semplice ok faccio una maschera di tutta la moto lascio invece il viottolo e tutto il resto qui ok bene in questo caso non ho bisogno che la maschera sia iper precisa perché le modifiche che ho fatto grazie all'opzione di fusione sono abbastanza morbide ed è difficile che si veda palesemente un errore vado a usare la bacchetta magica per selezionare la parte centrale della maschera la espando ragazzi se sto facendo delle cose che sono troppo difficili o fuori da quello che siete abituati a fare con photoshop il consiglio è sempre quello corso completo di photoshop che le ragazze adesso vi postano che è in promo in questo periodo tra l'altro poco fa abbiamo mandato una mail con l'operazione photoshop che comprende il corso completo di photoshop gli zot di photoshop e photoshop pro tools in modo da avere quelle basi che se non capite quello che sto facendo in questo momento vi mancano ok bene andiamo a vedere è abbastanza soft questo lavoro qua quindi lo possiamo accentuare un po' di più andiamo al 70% ok perché non mi fai vedere quasi nulla forse ho esagerato con le opzioni di fusione ok no mi sembra bassa la regolazione decisamente bassa la regolazione ah è al 10% il livello ecco perché c'era un problema di livello bene al 10% ok adesso è decisamente troppo forte sia questa che questa la andiamo a abbassare leggermente ok rispondo a un po' di domande hai già un'idea del tuo risultato finale per capire l'associazione concept step di lavoro ho già un'idea del risultato finale assolutamente sì che poi vi faccio vedere il livello sottostante del fond di sé in questo caso qual è l'immagine in questo caso avendo un livello di regolazione non ha alcun contenuto tonale il livello sottostante è tutto quello che c'è sotto quindi l'immagine ok è tutto quello che c'è sotto sto dando il bianco in casa ok banale ma fighissimo grazie non mi era chiaro come hai fatto a schiarire la zona più chiara a sinistra allora c'è un livello di regolazione prima di tutto che è una curva che va a schiarire poi c'è una maschera che fa lavorare quella curva solo in quella zona e c'è un'opzione di fusione che fa lavorare quella curva solo sulle aree luminose dell'immagine in modo da evitare di schiarire gli alberi perché io non voglio schiarire gli alberi io voglio schiarire lo sfondo se io ho gli alberi scuri che impattano su uno sfondo più chiaro ho una tridimensionalità completamente diversa e l'immagine assume ancora più volume ok poi è chiaro che guardando il primo e dopo adesso dici vabbè ma è finta ma vi assicuro che se non vedete prima e dopo non ve la accorgete ok allora sono qua ho fatto a livello tonale diciamo alcune cose che mi interessavano vado a farne altre per esempio voglio schiarire la parte qua della moto può essere utile avere una maschera perché la inverto e vado a lavorare con una curva solo nella parte della moto alzandola un po' chiudendo un pelo in ero in modo da avere un maggior contrasto il contrasto lo definisco io in questo caso e poi vado a sfumare in modo da non avere la parte alta quindi solo la parte bassa della moto viene influenzato da questo non vado a schiarire ulteriormente lui che è già abbastanza luminoso al massimo lo farò dopo la maschera la crea da un canale magari quella di luminosità del lab perché devo perdere tempo Marco ti rispondo in questo modo creare le maschere dai canali non è la cosa più semplice del mondo creare il canale della luminosità di lab lo andiamo a vedere è così cioè non è un canale dal quale io posso far facilmente una maschera dello sfondo delle volte i canali sono un po' una c'è questa allure sul fatto che le maschere fatte con i canali sono più semplici non è vero un cazzo se avete un pannello che vi fa le maschere in automatico può diventare anche più semplice ma fare le maschere con i canali è difficile quanto farle normalmente in questo caso specifico fare una maschera con un canale è come utilizzare un'opzione di fusione funziona esattamente nello stesso modo quindi fare una maschera con un canale vuol dire metterci molto più tempo di quello che ci ho messo a farla a pennello in questo caso specifico ok per riempire la maschera non usi mai il secchiello il secchiello è ricco uno strumento che non esiste perché devo riempire una maschera con un secchiello quando un livello con un secchiello quando ho delle scorse tra la tastiera che mi permettono di riempire con il colore in primo piano alt backspace il colore in secondo piano command backspace il secchiello è uno strumento totalmente inutile io ragazzi non uso il secchiello da almeno 20 anni e sono sopravvissuto quindi no non lo uso il secchiello non serve a nulla lo devi agganciare alla maschera dimmi cosa Luca grazie al corso completo finalmente riesco a seguirti ragazzi noi in diretta riusciamo a fare tante cose ma non potete pensare di risolvere di imparare a usare photoshop in una serie di diretti io credo che ci siano già tantissimi spunti se le seguite tutte 45 ci sono tantissime cose però la formazione l'ha fatta attraverso un percorso dettagliato su ogni piccola parte quello che io faccio in una diretta in un'ora in un corso in un'ora riesco a dirvi 4 volte le cose che vi dico ok il double focus è una tecnica di dettaglio che fondamentalmente altro non è che la tecnica di Margulis per il doppio la doppia nitidezza in lab questo è la chiamo io double focus per comodità per fare più di una sfumatura la maschera devo usarla dal nero a trasparente la maschera e le sfumature sono sempre da primo piano a trasparente perché puoi aver bisogno anche del bianco quindi io cambio primo piano secondo piano con la X vedete qua nel selettore e la maschera sopra cambia ok quindi sempre da primo piano a trasparente la mail dell'operazione photoshop non è ancora arrivata magari non ha fatto in tempo Elisa a spedire prima dell'inizio della diretta mi postate il link di photoshop pro tool Elisa o Fede il link di photoshop pro tool neanche per dipingere casa il secchiello no quello serve per dipingere casa ok yep allora vado avanti quindi quello che ho fatto è nitidezza difetti la nitidezza fra l'altro col double focus ti dà anche un volume diverso e fa uscire rami luminosità in modo da tirare fuori lui di più ok in realtà non ho scurito delle aree anzi cioè non ho fatto niente da quel punto di vista e schiarita un pelo sulla moto che adesso vado per evitare macchie volendo anche ammascherare un po' ma no non si vede nulla non dà fastidio si vede abbastanza bene ok adesso altre cose che devo e voglio andare a schiarire adesso è il momento di incominciare a tirare fuori un po' di boost all'immagine lo posso fare in tanti modi quello che mi permette di essere probabilmente più efficace è dodge and burn quindi metto due curve una curva che schiarisce e la faccio completamente nera faccio la maschera completamente nera in questo caso ho invertito command i sulla maschera e queste luce dopodiché duplico la curva questa diventa ombra la duplico perché è più veloce rispetto che farne un ex novo e abbasso quindi ho le luci e le ombre e vado a lavorare qua con un pennello bianco vado a lavorare con un pennello bianco che mi permetta di tirar su alcune cose stanno arrivando a tutti ok anche io una volta studiato il corso ora capisco è fantastico qui si impara tantissimo grazie mille Erika sono molto contento ok bene se ci pensate queste dirette sono un ottimo modo per andare a accelerare quello che avete visto nel nel videocorso perché andiamo a tirar su proprio tutte tutti i dettagli di ogni cosa e magari c'è un'applicazione che vi può essere utile in questo caso io schiarisco l'interno della mascherina non è detto che lo schiarisca tutto su una maschera posso lavorare anche in nero per andare a chiudere un po' qua per andare a chiudere un po' la pupilla le ombre in modo da lasciarle qua ho esagerato decisamente ho esagerato decisamente ok e tiriamo fuori l'espressione poi poi l'andremo abbassare perché è troppo forte come come opacità come spinta però abbiamo tirato fuori la faccia di lui con una certa energia ok poi abbasso il flusso lo porto a 5 e incomincio a tirar fuori tutte le parti più illuminate che voglio che si vedano di più col bianco in primo piano questa è tutta luce vado a illuminare in un caso come questo le stropicciature le pieghe sono tutti ottimi elementi per dare tridimensionalità e per rendere l'immagine più cattiva più aggressiva quindi io posso andare a lavorare anche piuttosto vicino per andare a tirar su dei piccoli dettagli quindi vado a tirar su proprio ogni singola piega vedete quello che sto facendo in modo da avere proprio dei dettagli pittorici anche molto spinti cosa che non vi direi mai di fare in un'immagine di food o in un'immagine di ritratto ma che in questo caso specifico mi permettono invece di dare un rilievo diverso all'immagine e più cattiveria a lui quel poco di rilievo in più che io riesco a dare con un livello curve in realtà senza fare cose folli e che posso dare a praticamente tutto cavi compresi mi permette di tirar fuori un po' la mia immagine di tirar fuori dei volumi delle delle cose che altrimenti non si sarebbero viste ok io mentre faccio questi lavori di solito mi spengo un po' quindi magari parlo meno semplicemente perché sono concentrato nella ricerca dei punti da illuminare non vado a illuminare aree scure vado a tirar fuori la luce dove c'è già quindi per esempio qua ho una piega vado a tirar fuori leggermente questa piega che è leggermente troppo in ombra vado a far vedere un po' di più il lato qua e magari il canotto della sospensione ok il secchiello per riempire la zona interna dopo aver fatto il controllo dei motociclisti in fase di creazione della maschera se riconosce il il bordo del resto del tracciato potrebbe essere utile però si corso Photoshop completo davvero efficace io non era a livello base ma comunque è stato molto utile bene ottimo mi fa piacere quindi stai facendo un contouring in realtà no questo è più vicino a un dodge and burn alla dragon per capirci il contouring è definire i contorni soprattutto del viso per andare a dare tridimensionalità qua invece io sto lavorando su tutti su tutte le parti dell'immagine anche su della roba che non c'entra niente con lui ma è parte della moto per esempio per andare a a tirar fuori un po' di tridimensionalità in più che già il flash aveva dato queste luci mi portano a questo ok quindi vedere meglio la moto vedere meglio tante cose posso incominciare anche a lavorare per illuminare leggermente il fanale che dopo tiriamo su del tutto ok è l'ultima cosa che facciamo ma questo possiamo incominciare a farlo vedere ok bene altre cose direi che qua non ce ne sono posso buttarsi un po' d'ombra volendo ma poca roba poca poca solo per accentuare ancora un po' di più certe parti quindi far vedere di più l'occhio di lui ancora far vedere se ce ne è bisogno di più certe pieghe qua possiamo alzare leggermente e stare molto attenti quando lo usiamo io faccio dei lavori col flusso a un livello che non vi consiglio di usare soprattutto all'inizio perché all'inizio avete bisogno di abituarvi e di conoscerlo un po' il flusso poi dopo una volta che avete imparato dopo potete farci quello che vi pare e non c'è nessun problema anche qua lo stesso discorso vale per ombre e luci vado a tirar fuori un pochino di volume in certe pieghe e in certe parti dell'immagine in modo da dargli una maggiore tridimensionalità l'obiettivo è sempre quello di tirar fuori la tridimensionalità in modo da renderlo più evidente e più forte più diventa tridimensionale l'immagine più sarà forte lui che è il mio soggetto e di conseguenza più avrò un'immagine impattante e che funziona in questo caso specifico soprattutto ok bene abbiamo diciamo abbastanza ben ravvivato lui come sulla modella quando accentuo gli zigomi si è un pelo diverso il contouring tendenzialmente tende a stringere il volto quindi a mettere le ombre intorno al volto per illuminare le parti importanti il concetto cioè la tecnica è la medesima usata in maniera leggermente diversa con che valori del pennello stai lavorando il pennello cambia dimensione a seconda di quella che mi serve è un pennello bianco o nero con l'opacità al 100% ma usare direttamente lo strumento dodge and burn nel pannello di sinistra su una maschera nera non servirebbe a nulla dovrei usarlo o direttamente su un livello ed è una cosa che non farò mai perché non lavoro mai direttamente sui pixel del livello se non necessario o creare un livello grigio il vantaggio che mi dà il fatto di dividere ombre e luce in due livelli separati e in due livelli di regolazione è che posso gestire le opacità e quindi abbassarle e posso lavorare sulla maschera in maniera più veloce cancellando e ritirando fuori rispetto a quanto rispetto a quanto faccio con un livello grigio ok quanto pesa un file del genere per adesso 190 mega sulle piante non ci fai niente no le piante sono semplicemente una quinta queste sono completamente nere e quindi sono una quinta queste sono troppo lunghe da lavorare e in ogni caso sono nere quindi ci potrei far poco quindi tendenzialmente lavoro su di lui è chiaro che se volete investirci 50 ore potete farlo vi mettete qua e scolpite il riflesso su ogni pianta ma io non posso andare a lavorare su della roba che non c'è qui ho delle luci questo non lo voglio tirare su più di così perché altrimenti si vede più di lui mi concentro su di lui cioè il mio tempo lo investo tutto su di lui vado a fare un lavoro per quello che riguarda le cromie quindi per adesso i toni sono a posto ok correzione toni vado a fare in 10 minuti un lavoro per quello che riguarda le cromie questo è verde e andiamo a lavorare con prima di tutto una tinta unita che voglio tendente al verde se è possibile ok la metto in colore la vado a abbassare al 10% 5% forse è meglio un colore un po' più marcio ok o un po' più tendente all'azzurro forse mi piace di più così ok allora questo lo voglio far lavorare soltanto sulle luci dietro quindi vado a togliere tutta la parte nera fino a quando non lavora solo sulle luci dietro e sicuramente vado a mascherare anche lui la maschera ce l'ho già che è questa e vado a toglierci lui di mezzo ok dopodiché vado a mascherare in un gruppo anche la parte sotto perché non voglio che il prato sotto diventi verde e vado a mascherare anche la parte di qua certo che se uso il bianco otterrò dei risultati veramente scarsi quindi maschero la parte sotto questo mi serve per dare una maggior contrasto cromatico ok a lui quindi rifacciamola perché qua la voglio con un passaggio più soft qui la voglio invece con un passaggio più netto e questa mi serve per dare maggior contrasto cromatico ok più do contrasto cromatico più uso più più riesco a ottenere dei risultati interessanti Zota arrivati sono davvero fatti molto molto bene gli appunti che non ho mai avuto grazie ne sono contento usi photoshop più di giorni da vent'anni essendo grafica mi ho scoperto grazie ai vostri corsi un sacco di cose che non sapevo grazie mille sono contento bene se non se non si usa la tavoletta il flusso equivale all'opacità no 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 il flusso è una roba diversa dalle opacità il flusso è funziona l'abbiamo visto anche in un altra diretta ma ve lo faccio rivedere io il flusso lo uso sulle maschere per avere delle maschere più pittoriche la differenza è questa questa è l'opacità al 50% se continuo a passare rimane al 50% ho il flusso scusate questa è l'opacità al 50% continuo a passarci sopra rimane al 50% facciamolo al 25% che si capisce meglio ok questa è l'opacità al 25% se stacco e ci ripasso sopra si sommano questo è il flusso al 5% 9% più passo e più aumenta quindi per lavorare sulle maschere è più veloce è più semplice e mi permette anche degli effetti un po' più mossi e un po' più interessanti allora vorrei che questo colore fosse un po' meno verdastro ok e andiamo più in qua benissimo poi dopo lo andiamo a scurire sui bordi nel dodge and burn usi sempre il metodo di diffusione sul normale se stiamo lavorando con delle con luce e ombra sì se devo lavorare molto forte quindi se il rischio è che vada a influire sulla saturazione le metto in luminanza però se lavoro abbastanza soft non ce n'è bisogno in questo caso se mi va a aumentare la saturazione non è un danno mostruoso nei toni mi sono dimenticato una cosa che voglio fare che è questa vado a aggiungere una tintunita la tintunita la vado a scegliere sempre qua in questa area di colori con un colore particolarmente scuro la metto in moltiplica dopodiché la uso per farci la vignettatura dell'immagine quindi vado a vignettare lì vado a vignettare qua ok controlliamo che il nero sia nero perfetto vado a vignettare molto bene sul soggetto vado ovviamente a togliere la luce che c'è di qua e uso questo colore questo tono per andare in moltiplica a chiudere un pochino la luminosità negli angoli vediamo quello che abbiamo fatto dall'inizio ok con toni e colore forse un po' chiusa dalle parti adesso questa parte qua forse un po' troppo chiusa non è il caso andiamo a mascherare con il nero in modo che mi chiuda solo sopra perché questa parte qua la voglio abbastanza aperta quella nell'angolo di là no nell'angolo di là può essere tranquillamente chiuse vedete uso radiali e maschere lineari per avere una maschera mossa che mi permetta di avere lo scuro dove mi serve ok allora ho bisogno secondo me di schiarire ancora leggermente qui dietro perché mi sembra che sia un po' debole la schiarita lì dietro vado a alzare l'opacità di questa ok perfetto bene adesso colore quindi finisco la parte cromatica ho messo una dominante verde verde azzurra sullo sfondo ok posso anche usare un colore meno saturo se voglio che il risultato sia meno forte meno violento ma a me non dispiace vado a lavorare sugli arancioni in questo caso quindi vado a lavorare sull'arancione di lui posso lavorare in tanti modi in realtà correzione colore selettiva in questo caso vado a lavorare sui rossi e tolgo un po' di cian più tolgo cian e più i rossi diventeranno saturi e luminosi perché è il colore che va a inquinare i rossi stesso discorso sui gialli più ne tolgo e più avrò un colore saturo e iperluminoso ci sono due cose che devo sistemare ho notato ho una maschera che non è perfetta mi sembra esatto scusate vado a sistemare un attimo quella maschera perché se no mi dà dei piccoli errori qua ma me li dà soprattutto qui magari ho una sensazione e in realtà col flusso a 9 è un po' un po' basso ok no non era solo una sensazione ok vado avanti vado a fare la mia correzione colore selettiva che poi farò lavorare soltanto sul motociclista ma che per il momento sta interagendo solo su di lui vado a lavorare anche sui bianchi pulendoli un po' quindi togliendoli un po' di ciano e un po' di magenta diventeranno molto gialli li vado generalmente a desaturare tutti quanti ok ha lavorato anche di là quello che posso fare è semplicemente maschera completamente nera dopodiché mi bastano anche delle radiali per andare a far lavorare quello che ho fatto solo su di lui tanto sul blu non lavoreranno ok vediamo le domande una foto così se non facessi il videocorso in quanti minuti la svilupperesti per quello che sto facendo in una mezz'ora si fa poi magari ci vuole una retta per farla molto molto bene la foto è stata scattata con un flash anche davanti ci sono due monotorcia B1 pro foto una davanti e una dietro ok allora le ragazze vi hanno postato photoshop photoshop pro tools vi postano gli zot ok così abbiamo tutto il range dei corsi di oggi vediamo qual è il risultato ok diciamo che sono riuscito a riportare cosa ho fatto ho usato il contrasto tonale per aumentare il contrasto da questa parte e ho usato il contrasto cromatico per cercare di renderlo ancora più forte ok devo stare attento a non rendere troppo grigia questa zona e posso eventualmente aumentare anche ancora leggermente dietro di lui la luminosità andando per esempio a usare valori tonali alzare un po' la luminosità ok e anche questo lo maschero in modo che sia soltanto un alone dietro di lui questo è l'effetto sposa illuminata dalla luce divina però fatti in modo che si noti meno che è una sposa illuminata dalla luce divina qua in questo caso visto che ho schiarito tanto adesso devo stare attento e avere una maschera più precisa perché la maschera che ho è imprecisa e si vedono gli aloni quindi vado a lavorare velocemente sulla maschera in modo da correggere un po' i bordi nelle aree dove ho la sensazione che si veda che non sono stato preciso e quindi ho degli aloni scuri ecco gli aloni nelle foto sono la prima cosa che fa percepire il fatto che avete fatto una regolazione poi si vede che questa foto è stata regolata ma nel momento nel quale uno scatto ha la funzione di trasferire un messaggio pubblicitario che ci sia stata o meno una regolazione è una cosa abbastanza normale vado a sostituire l'altra maschera in modo da avere lo stesso risultato su entrambe ok bene ho la parte cromatica ho fatto la parte cromatica ho fatto la parte diciamo così tonale ok queste sono le correzioni colore potrei aggiungerne altre 25 ma direi che bastano e avanzano raggruppo e questa è correzione colore ok andiamo ad aggiungere l'ultima cosa volendo l'ultimo l'ultimo elemento siamo partiti da qua e siamo arrivati qua per il momento andiamo ad aggiungere l'ultimo elemento allora perché hai tolto il blu dei flash dietro e poi hai inserito un colore bluastro sulle luci in realtà il colore bluastro arriva anche fino là ho tolto il blu perché era troppo forte c'è già se voi andiamo a vedere la foto prima dello sviluppo c'è un blu che è estremamente forte perché è una riflessione ti faccio vedere l'immagine pre sviluppo ok ci sono proprio delle dominanti fortissime quindi non voglio che questa abbia una dominante perché teoricamente questa è la luce del sole mentre inserisco la dominante diciamo così atmosfera per dargli un po' di mood e per aumentare il contrasto far acceso e pioggia far acceso sì pioggia non facciamo in tempo ok allora far acceso accendere i fari andiamo a vedere allora come faccio ad accendere un faro la prima cosa è devo inserire degli aloni di dominanza ok quindi vado a mettere questi in blu non è semplice perché qua in realtà ci sono delle foglie che dovremmo togliere e quindi ci sarebbe da fare una maschera molto molto precisa adesso vediamo quello che riusciamo a fare allora la prima cosa è un fanale di quest'epoca probabilmente ha un alone giallo prima di tutto quindi tinta unita yellow ok la metto in luce soffusa la maschero completamente e poi vado a fare questo ok bene adesso questa dominante ci sta che venga trasferita su tutta la parte davanti perché comunque è un po' il flare che io ricevo dalla luce ok ci saranno cose realistiche e cose no quindi partiamo da questo concetto se io volessi mi metto qua e mi tolgo tutti i rametti lo posso fare sì però la luce diciamo viene da davanti a questi rametti e dietro a questi e questi questi eventualmente li potremmo togliere adesso vediamo come quindi la prima luce diciamo così è un bagliore piuttosto largo piuttosto forte e piuttosto basso di intensità la seconda luce invece è un bagliore bianco molto più stretto ok più stretto bene in sovrapponi o in luce soffusa in questo caso potrebbe essere una via di mezzo quindi un sovrapponi molto basso ok e anche questo potrei pensare già di incominciare a toglierlo per esempio dalle ombre ok perché essendo sopra il parafango non va a illuminare la parte nascosta della moto ok va a illuminare dietro sì ok però insomma abbiate pazienza ok sono arrivato alla fine si tranquilla puoi recuperare tutto quello che vuoi allora poi ho un'altra luce possono essere anche altre due ok ho un'altra luce molto più vicina sempre bianca che fa questo e questa la diamo in sovrapponi ok questa dovrebbe fare luce in alcuni punti e proiettare delle ombre ok quindi a questa luce che esce può essere che vada a proiettare delle ombre sotto può essere che per esempio io la vada a cancellare qua con una maschera precisa andandola a togliere da questa parte andandola a togliere di qua in modo che per assurdo dovrebbe proiettare delle ombre sta roba però cerchiamo di stare sul normale diciamo così però questa è la luce più stretta diciamo così del fanale ultima luce in assoluto l'ultima che aggiungiamo è invece una luce estremamente localizzata quindi vado di nuovo posso anche andare a duplicare questo lo vado a riempire completamente di nero e lo faccio con command backspace dopodiché vado a illuminare proprio il fanale lasciandogli magari questa sensazione delle dello sporco davanti e andando a sfumarlo leggermente sui borni dopodiché posso aggiungere qua in dodge and burn con un flusso basso delle fortissime dei fortissimi riflessi sulla plastica che non c'erano ok saranno comunque finti saranno comunque pittorici sì certo è vero assolutamente sì però intanto incominciamo a dargli una botta di vita forse sono troppo e quindi li andiamo a ridurre un po' perché ce n'erano già anche prima ok intersecare le radiali con la maschera del motociclista il problema è questo che se io vado a togliere il punto è la luce che viene in avanti influenza la mia ottica più che il retro se io vado a fare questo vi faccio un esempio le raggruppo e ci metto la maschera del motociclista davanti quello che succede è che io è vero che ho la luce solo sul motociclista ma è completamente insensata perché se il faro illumina in avanti dà comunque una sorta di flare e di cromia a tutto quanto ok se io scatto con un fanale davanti vediamo se c'è qualcosa qua sono probabilmente più piccole quelle col fanale acceso andiamo a vedere quelle col fanale acceso ok questo flare vedi che va anche qua che hai del rossiccio anche sul fondo anche se il fanale è molto molto debole in questo caso però escono dalla normale proiezione del fanale questa luce del fanale farebbe anche abbastanza schifo quindi cerco di tenerla un po' più larga ok ultima cosa il fanale se illumina illumina davanti quindi devo andare a cercare di intanto tolgo questa maschera devo andare a cercare di illuminare un po' i sassi qua questa è la parte più difficile probabilmente questi sono effetti quindi andiamo già su un altro colore e andiamo già sul viola qua incominciamo ad andare ancora più sul difficile perché devo andare a schiarire questi sassi e anche questo lo posso fare nello stesso modo quindi vado a mettere prima di tutto una tintunita gialla la vado a mettere in luce soffusa ok la vado a mascherare in modo che sia completamente nera ma prenda questa parte qua davanti con il flusso al 100% ok solo la parte davanti dovrei andare a scontornare fogliolina per fogliolina non lo faccio onestamente però se volete lo potete provare a fare e vado a togliere la parte scura tolgo la parte scura in modo che si fonda e in modo da avere il riflesso soltanto della luce del fanale davanti andando poi magari a mascherarla qui perché effettivamente sotto alla moto non proietterebbe ok dovrebbe essere un po' più a specchio adesso avrete pazienza oggi non la facciamo perfetta oggi la facciamo un po' come viene ok dovrebbe essere un po' più a specchio è un po' più tagliata nelle ombre ok boh forse anche un pelo meno vedete che poi alla fine mi intrippo e cerco di fare le cose fatte bene anche quando avevo detto che le avrei fatte semplici bianco anche qua luce soffusa anche qua maschera completamente nera la tiriamo fuori soltanto nella parte centrale e qua le opzioni di fusione dovranno essere ancora più stressate per toglierla praticamente da tutta la parte ok e lasciarlo soltanto una riflessione così poi va mascherata meglio va gestita meglio eccetera 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 però di fatto utilizzate le opzioni di fusione per andare a dare un effetto di illuminazione dei sassi ok e della parte diciamo così più avanti in modo da dare un senso anche al fan all'acceso si potrebbe usare la maschera del motociclista per inserire una luce rossa dietro per gli stop le moto da da gara non ce li hanno cioè almeno queste moto qua io non so neanche se hanno gli stop anzi le vado a vedere forse ce li hanno forse no vediamo il retro che qua c'è no non ce l'ha mica stop ragazzi forse hanno un filetto di led ma non ce l'hanno quindi la luce rossa non ce la metterei molto onestamente ok allora abbiamo fatto un lavoro molto più pesante di quello che facciamo normalmente su un'immagine ok quindi abbiamo fatto una roba già decisamente più pesa quello che è il risultato del lavoro di questa oretta oretta è un poco di più è questo anzi lo andiamo a rimettere tutto ok e il risultato è questo qua da qui a qui è chiaro che se vi aspettate ad avere un'immagine realistica no se vi aspettate ad avere un'immagine che risponde a quello che è lo scatto no se l'obiettivo del fotografo era più vicino a questo rispetto a quello che è riuscito a fare in mezzo al fango in collina e sotto la pioggia probabilmente sì dai probabilmente sì ok dubbi ansie debolezze domande il fumo il fumo se ci fosse lo teniamo non c'è c'è un sacco di nebbia dietro occhio aggiungere il fumo perché abbiamo visto anche nelle sfide in realtà qua c'è qualcosa abbiamo visto anche nelle sfide che aggiungere il fumo è una roba abbastanza difficile loro il fumo qui ce l'hanno ok ma non si vede dietro si vede qua perché c'è il flash che lo becchi in controluce altrimenti non si vedrebbe qua il fumo non c'è c'è pochissimo qua sotto e viene riportato dietro però non mettete della roba più evidente troppo più evidente di quello che sarebbe perché è difficile da fare tanto io lavoro con l'imposta prova colore attivato in cmi k ma quando esporti in jpeg i colori sono totalmente diversi se esporti in jpeg in srgb lavorare con la prova colore cmi k non ti serve niente metti la prova colore in srgb e se lavori con la prova colore cmi k attivata elvis e non esporti in cmi k non ti serve nulla no no non è stop ne frecce si ok non sfottere quel povero cristo che ha messo il fumo l'avete messo almeno in tre quattro credo ok qualcuno l'ha fatto in maniera molto realistica credo che fossi proprio tu bruno che hai usato un fumo che era troppo troppo a filamenti che è il classico fumo che producono gli stick o le ce la posso fare o le sigarette in quel caso ti conviene usare o una sigaretta elettronica quindi su chi spari un pochino di fumo però ne fa tanto tanto oppure proprio un fumo dovuto a qualcosa di caldo cioè prendi un po' d'acqua bollente anche in un cucchiaio gli passi sopra e poi vai a montare quel fumo lì perché se no è difficile dove c'è il bagliore più forte a sinistra non si poteva far emergere un pochino di più i rami il tronco nero perché non caschi così tanto lo sguardo sulla luce dietro quella bianca cioè dici schiarire i rami schiarire i rami in realtà ti porta a poco perché c'è del grigio però si può essere cioè fare un po' più di contrasto schiarendo un po' i rami si può fare sì assolutamente purtroppo quella luce lì doveva essere tagliata cioè questa foto qua ha senso secondo me a livello di inquadratura lui voleva mettere una sorta di sole che stava nascendo dietro però secondo me a livello di inquadratura se noi andiamo proporzioni originali ok se noi la andiamo a tagliare così anche se è troppo stretta sul soggetto secondo me è già meglio perché i rami fanno la quinta e lui è protagonista se invece abbiamo i rami in mezzo alle abbiamo questa luce in mezzo alle balle piuttosto guarda la tagliamo qua giusto perché si intraveda che c'è ma dia meno fastidio ecco con il ritaglio finale di impaginato credo che sia anche meglio e allora qua potevi schiarire un po' ok non schiarire il contrario chiudere ancora possiamo provare a farlo siamo in correzione toni ormai tanto siamo all'ora e mezza abbondante come al solito andiamo in valori tonali vado a chiudere la parte nera ok la mascheriamo per forza di cose la abbassiamo un po' perché comunque è troppo forte però vedi aumenta il contrasto tonale rispetto a quell'area lì ci viene tanto scuro e quindi non lo so non so se mi piace di più di me senza la luce del fanale si leggeva meglio sì ci sta assolutamente sì il fanale è spento di fatto quindi la puoi lasciare anche senza è solo un gioco per farti vedere cosa possiamo fare allora la luce in mezzo alle balle a me piace molto ok va bene l'ho vista prima un attimo in bianco e nero favolosa non so se sono d'accordo sai però vediamola bianco e nero va soprattutto secondo me si fa molta fatica a vedere lui cioè in questo caso il contrasto cromatico aiuta tanto a far vedere a far vedere di più lui perché altrimenti si fa un po' fatica poi se lo illuminiamo ancora di più il tuo occhio va qua e ti aiuta un po' anche a me piace di più il fanale è spento ragazzi io vi spiego come si fa le cose poi per fortuna le fate come vi pare era per farvi vedere una cosa in più che possiamo fare fra l'altro accendere un fanale in queste condizioni e rendere lo realistico è praticamente impossibile il primo che sa usare un po' photoshop e la guarda vi dice sì vabbè il fanale era spento ci hai buttato su una luce con quattro livelli ok ragazzi ve lo spengo il fanale ok mi state tutti chiedendo il fanale è spento ve lo spengo condivido un ritaglio stretto l'avrei fatto da subito ecco io di scuola non ritaglio le immagini perché do per scontato che ci sia qualcuno che le impagina e poi le ritaglia dopo poi c'è Instagram eccetera quindi preferisco avere tutto poi dopo si decide la fine magari qua ci mettono sopra un marchio cioè ci viene della grafica ci viene sopra un rettangolo nero al 80% no qua così come facciamo noi per esempio nelle immagini dirette ci viene sopra un rettangolo nero in moltiplica al 90 80 90% con sopra della grafica e quindi va bene anche così ok quindi per quello vi dico la tendenza a tenere le immagini sempre complete e poi a tagliarle in immaginazione bene ragazzi torniamo a noi torniamo allo studio al studio come dicono a Reggio Emilia ok eccoci qua ok bene 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 altre domande ansie e dubbi a gusto personale non spegnerelo ma riducelo al 50% no ho ridotto al 50% con l'opacità bassa non fa schifo te lo dico per esperienza il fanali cioè quando accendi le luci se abbassi l'opacità si vede diventa grigio non diventa meno fastidioso ok il ritaglio conviene farlo alla fine nel senso correggo tutto e poi decido il taglio o il taglio l'immagine eh sì io comunque se taglio taglio alla fine bene allora ragazzi le ragazze vi hanno postato Zot Photoshop Pro Tools e Photoshop CC il corso di Photoshop CC avete ve le postano adesso anche quelle ci sono tutti i corsi di post in promo tutti i corsi di fotografia in promo quindi e tutti i percorsi completi sono in promo quindi sui corsi di fotografia di post avete degli sconti che vanno anche oltre il 70% sui percorsi completi che sono già dei pacchetti fatti di corsi anche l'85% dategli un'occhiata e poi se volete se volete qualcosa prendetelo fino a quando non cambiamo tutti i prezzi ok si può avere un file prima e dopo l'abbiamo visto l'abbiamo visto prima ok grazie Roberto prima dicevi che salvi per la stampa in TIF perché non in JPEG alta risoluzione perché il JPEG comprime ragazzi il JPEG comprime il JPEG ha una perdita di qualità dell'immagine se io devo andare in stampa vado in stampa in TIF poi se lo stampatore è uno stampatore digitale che mi deve stampare delle fotine da appendere in casa e mi chiede dei JPEG gli darò dei JPEG ma mi aspetto una qualità inferiore ragazzi in stampa di qualità ci si va in TIF perché è l'unica tipologia di file che vi permette di non perdere qualità il JPEG ragazzi abbassa la qualità dell'immagine comprime in ogni caso yep le ragazze vi stanno postando tutti i corsi ok corsi di post eccetera 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 bene ragazzi grazie per l'attenzione anche oggi adomarketing esatto domenica marketing quindi domani parliamo di marketing e parliamo di una cosa fondamentale abbiamo parlato di specializzazione abbiamo parlato di come incominciare a capire quali sono i tuoi clienti ideali domani parliamo di una roba assolutamente fondamentale per un fotografo che è per un ritocatore che è il cosiddetto fattore di differenziazione cioè come faccio a essere ed apparire anche perché essere ok ma devo anche comunicarlo diverso dagli altri e a farmi scegliere per questa mia diversità e quali sono le diciamo tipiche i tipici fattori di differenziazione che possono essere utili a un fotografo a un ritocatore ok il gfp il gran figo di photoshop ragazzi è un titolo nobiliare il gran figo di photoshop il gran visire di photoshop il gran mufti di photoshop il ras del quartiere di photoshop sono tutti titoli nobiliari vi danno le medagline proprio dove posso eventualmente trovare le masterclass che non sono inserite nell'abbonamento annuale se hai il corso di photoshop almeno per il momento nei bonus trovi tutte le masterclass che abbiamo fatto nel momento nel quale molto presto le masterclass di photoshop saranno in omaggio per chi compra il corso una e le masterclass saranno un'altra roba perché andremo a fare un altro discorso diverso ok bien ragazzi grazie mille ci vediamo grazie anche oggi ci vediamo domani ok ciao ragazzi ci vediamo domani alle 3 in diretta marketing e fattore di differenziazione roba forte a domani ciao buona giornata ciao